Samsung lancia qua la fotocamera a lenti intercambiabili senza specchio NX100 una fotocamera come vediamo dal corpo è assolutamente compatta quindi con un design molto ondulato, plastiche di qualità vediamo la parte posteriore, il display utilizzato è un 3 pollici OLED mentre invece il sensore è un formato APS-C da 14 megapixel una delle novità fondamentali di questa fotocamera NX100 è appunto questo tastino IFN mentre si inquadra, premendo questo tasto, è possibile cambiare automaticamente le varie impostazioni senza quindi togliere l'occhio dal display e dalla scena che stiamo inquadrando le impostazioni cambiano a seconda che sia la foto venga scattata in impostazioni da professionista adesso proviamo a vedere se riusciamo ad accenderla ecco qua, modalità intelligente tenendo premuto vediamo che possiamo cambiare solamente le scene adesso siamo in modalità invece base se ci spostiamo in M quindi già una modalità più evoluta premendo qua possiamo alternare diaframma, tempi di posa, bilanciamento del bianco, ISO quindi premendo questo tasto e girando la ghiera possiamo cambiare tutte le impostazioni della macchina una macchina leggera, sono previsti diversi obiettivi c'è il 20-50 e questo pancake 20 mm molto luminoso F2.8 arriveranno altri obiettivi nel corso dell'anno la macchina riprende anche video a 720p grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti